Dietro ogni storia d'amore delle celebrità c'è sempre un segreto inconfessabile. Antonella Fiordelisi e Guglielmo Vicario, una coppia che sembrava uscita da una favola, ma che ora si trova avvolta in un mistero di tradimenti e segreti. Se volete scoprire la verità dietro queste foto scottanti, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Solo qualche tempo fa, il mondo del gossip si è acceso per la conferma di un flirt tra l'ex concorrente del grande fratello VIP7, Antonella Fiordelisi, e il noto portiere Guglielmo Vicario. Ma ora, sembra che il vento abbia cambiato direzione. Secondo le ultime notizie di Dillinger News, ci sono prove di un presunto tradimento da parte di Vicario. Immaginate la scena, Dubai, una città di lusso e tentazioni, e qui appare il nostro portiere con una misteriosa bionda. Non solo sono stati visti insieme, ma ci sono fotografie che li mostrano in atteggiamenti intimi. Cosa ne pensate? Era una relazione aperta o si tratta di un vero tradimento? Scrivetelo nei commenti! Ma c'è di più! Queste foto non sono ancora arrivate agli occhi di Antonella. Come reagirà quando scoprirà la verità? Ricordate, nel mondo dello spettacolo, nulla è mai come sembra. Prima di giungere a conclusioni affrettate, aspettiamo di sentire anche il suo lato della storia. Se siete curiosi di sapere come evolverà questa storia, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. La storia tra Antonella Fiordelisi e Guglielmo Vicario continua a svilupparsi e noi saremo qui per aggiornarvi su ogni dettaglio. Cosa ne pensate di questa situazione? Antonella merita di sapere la verità? Lasciate un commento qui sotto con le vostre opinioni, e non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del mondo del gossip. Alla prossima!